Rice è un importantissimo momento di riflessione merceologica delle parti produttive del riso e degli industriali che lo commercializzano e della commercializzazione più complessiva e il consumatore. È un momento di incontro di queste quattro componenti importanti. Avverrà il 21, 22 e 23 di settembre ma il 21 ci sarà soltanto un momento di inizio delle attività delle belligeranze che avviene a Novara perché tenevamo molto ad avere coinvolto l'amministrazione comunale di Novara perché è Novara capitale e anche perché Novara è turistica perché è con delle emergenze architettoniche importanti. Tanto che la sera di venerdì ci sarà un inizio delle attività al broletto sia utilizzando il salone per un piccolo rinfresco che la piazza all'interno, il cortile del broletto per uno spettacolo. Successivamente il 22 ci sarà un importante convegno, appunto quello che vede agricoltura e industria legate insieme dove si vorrebbe dare l'atto di fondazione della filiera italiana del riso. Dove le forze agricole e le forze industriali comincino a parlarsi per tutelare il riso italiano e distinguerlo dal riso del mondo. Successivamente cominceranno vera e propria la kermesse pubblica che è quella che attraverso gli stand, le degustazioni, gli incontri andiamo a avvicinare il consumatore e a far sì che i bambini, i genitori e il consumatore stesso, quello più ampio, abbiano a scoprire la realtà del riso. Del riso italiano, del riso a Casal Beltrame, tant'è che per arrivare a Casal Beltrame dovranno percorrere la strada che dall'autostrada da Biandrate, Reca a Casal Beltrame in mezzo alle risaie. Vedranno anche le mie titrebie in azione, vedranno tangibilmente quella che è la civiltà rurale collegata al riso. Sì, la sfida di Reiss è un po' questa, cercare di superare i confini, prima di tutto tra le province e i territori del riso limitrofi, quindi Novara, Pavia, Vercelli, Biella, portandoli a lavorare insieme su un progetto comune, anche in vista di potersi presentare uniti come territori italiani del riso di eccellenza all'Expo 2015 di Milano. C'è poi una barriera chiaramente anche tra i vari settori, quindi tra il mondo agricolo, il mondo industriale, il mondo del commercio. Anche questo si vuole cercare di superare portando insieme una serie di operatori. Quindi a Reiss ci sarà spazio per il riso industriale, per il mondo agricolo, per chi il riso lo utilizza come materia prima, per le sue preparazioni culinarie e quindi diciamo per la parte proprio della ristorazione a base di riso. Reiss inizia a Novara venerdì sera alle ore 21 con uno spettacolo di Patrizio Roversi che si svolgerà nella cornice del cortile del Broletto in Via Rosselli. Proseguirà poi sabato 22 e domenica 23 di settembre dalle 11 del mattino fino alle 23 a Casal Beltrame presso il Cascinale dei Nobili. Una bellissima struttura che presenta sia degli spazi all'aperto dove verranno appunto ospitati il mercato del riso, ma ci saranno anche i cibi di strada, ci saranno le birrerie e poi ci saranno spazi chiusi con l'Osteria del Riso, i laboratori del gusto, l'Enoteca e non vorrei dimenticarmi poi qualcosa perché gli eventi sono veramente moltissimi. Ci sarà poi anche la possibilità di fare dei percorsi alla scoperta del territorio, quindi la possibilità di seguire degli itinerari in bicicletta, anche per conoscere i comuni limitrofi con guide turistiche, la possibilità di fare dei giri a cavallo, quindi veramente un'offerta per tutti i gusti. Ci sarà un'offerta per i bambini con dei laboratori proprio pensati espressamente per loro e ci saranno poi una serie di spettacoli, oltre a quello di Patrizio Roversi su Novara, ce ne saranno parecchi che si svolgeranno nel Gran Teatro del Riso, tra i vari nomi ci saranno i Tre Lilu, la Banda Osiris e spettacoli comunque molto interessanti, conversazioni, presentazioni e quant'altro.